Il vantaggio è legato alla tecnologia intriseca di questi robot che sono in grado di aiutare il bambino a recuperare la funzione motoria del braccio, del polso e della mano grazie a una serie di meccanismi di interazione. Questi robot sono particolarmente importanti perché sono in grado di dare una riabilitazione altamente intensiva che impegna molto il bambino ma con un approccio di tipo ludico, cioè il bambino si diverte come se facesse un videogame e senza accorgersi effettua un training altamente intensivo non praticabile con altre tecniche come quelle che solitamente utilizziamo in palestra.